Io sono Helpman! E allora? Siamo pronti? Io sono pronto! Facciamo una bella zuppa di tartaruga oggi! Maledetto! Forza Leo! Ehi Rap, dammi una mano! Ma che succede? Oh oh! Ehi Don, usiamo il nostro schema! Oh no! Non possiamo perdere! Parte presto! Ehi Capo, dacci una mano per favore! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! oh che mal di testa eima? ma che cos'è questo liquido? amici aiuto, aiuto sta succedendo qualcosa oh no raff, è ora di squagliarsela oh no raff, ma che succede? non so, non capisco, ma non mi sento tanto bene eima, ma che storia è questa? oh no, hanno usato una pozione ringiovanente su di lui oh no, è diventato un tartarino ehi ehi dove vai, fermo, ci sono i cattivi qui ehi Mick, fermo, non ci sono più i cattivi ci servirà aiuto adesso, chiamerò Helton pronto Helton, pronto una nuova chiamata Helton in ascolto Raffaello, è stato trasformato in un tartarino, ci serve aiuto perfetto, arrivo subito oh, ovviamente so già cosa prendere il microscopio e le provette andiamo ad aiutare le tartarughe ninja ehi la amici, eccom'è arrivato iniziamo subito l'analisi vediamo cosa si può fare è qualcosa di complicatissimo ci vorrà tantissimo tempo per fare un antidoto ah, fai vedere anche me anche io, in fondo, sono un scienziato allora Donny, che dici? ah, no, non è così tanto difficile solo un pochino di chimica, quantistica si può fare, insomma oh, perfetto Don allora noi ci prendiamo cura del piccolo Raffaello mangiate, mangiate già, anche io ho fame potremmo prendere della pizza? e allora andiamo a mangiare della pizza con il piccolo Raffaello ed ecco la cosa preferita delle tartarughe ninja la pizza mmm, pizza mmm, pizza a te piace la pizza? ehi, ma ma perché Raffi non mangia? già, lui ama la pizza ah, è piccolo bisogna imboccarlo mmm, mmm, mmm e ma per caso sta male? ma certo questo cibo è troppo solido forse è meglio frullarlo mettiamo gli ingredienti qua dentro però sembra disgustoso no, Leo questo per i bambini va benissimo già non sembra particolarmente buono in effetti forza Raffaellino mangia sembra disgustoso terribile guardate quanto piace a lui wow ma il tempo è volato forza andiamo a vedere come sta già Donnie è un genio avrei sicuramente finito ehi Donnie ma perché non stai lavorando? ma che dite? vedi? hai già fatto? wow sei stato velocissimo proviamolo subito ehi, ma che è successo? ma cos'è questo schifo? eh, Raffaellino sei tornato ottimo lavoro Donnie ehi, ma che è successo? ma perché sono riempito di questo schifo? eh, è una lunga storia non ti preoccupare e a te è piaciuto questo video? allora ricordati di iscriverti al nostro canale mettere mi piace e noi ci vediamo presto ciao